Ciao ragazzi, tutti sono Ian e bentornati in questo nuovo episodio della League of Learning Ah, siamo arrivati al Twisted Fate, un champion che mi avete chiesto veramente in tanti, anche in streaming Anche se io non è che sia un grande fan del nostro giocatore di poker qua Però è un champion interessante che di sicuro vale la pena di impararlo C'è gente che proprio ci muore dietro a questo campione E posso anche capirli, anche se non è proprio incline al mio personale stile di gioco Che ormai dovrei sapere su che cosa è incentrato Allora, parliamo un po' di lui Allora, le rune ragazzi, le rune sono particolari Io ho messo queste perché mi ci trovo bene onestamente Però se nel secondo ramo Allora, se avete un mid laner molto aggressivo contro Nel secondo ramo io vi consiglierei di prendere il Di prendere il ramo verde con il resolve Con il resolve e il bomb plate, quello che vi riduce i danni E il chrysalis Queste sono un po' a cazzo duro Sì, è vero, sono veramente a cazzo duro queste rune Quindi non so, vedete voi quali vi piacciono di più Allora, penso che siamo anche contro pike mid Pro, dotato di buonissimo waveclear e potenzialità di gankare Con la sua combo semplicissima Proprio la combo più semplice del gioco Contro È immobile Troppo immobile Spesso preda di bsit va giocato nella prima fase di game Con estrema cautela e attenzione a dove potrebbe arrivare il jungler Se iniziano a gankarvi Andate indietro e fate visione della croce Perché non ne uscirete più vivi Ci metterete un sacco di tempo per tornare a fare qualcosa E soprattutto La cosa peggiore che può capitarvi con lui È di non riuscire a sfruttare la sua potenzialità Potenzialità di gankare spesso con la sua ultimate Che è quello che deve fare un buon TF Se un TF non riesce a fare sta cosa Siete dei TF inutili Grazie signor motorino che passi a 3.000 euro sotto a casa mia In quel caso per l'appunto sarete abbastanza inutili per tutte le fasi del game Passiva Quando uccide un'unità Ovvero un nemico, un minion, un mostro, un champion Quel che l'è TF riceverà Chiamo TF per... Riceverà oro addizionale casuale Fino ad un massimo di 6 gold Che vuol dire? Come una roulette Ammazzi un mino Un nemico a caso Ti può dare da 1 a 6 gold aggiuntivi È totalmente a random Perché sapete lui gioca ad azzardo Quindi gli piace Vedete c'è pure la carta in mano Nel caso non l'aveste capito È un bel asso sul cappello Nel caso non l'aveste capito Che tipo di persona è Twisted Fate Q È uno skillshot triplo Abbastanza lento ma molto lungo Che fa danno magico a tutta l'unità che attraversa Che vuol dire che è triplo? Che Un raggio parte in mezzo E altri due partono di così Guardate Ok? Per questo è quello che intendo per skillshot triplo E niente È proprio la spell più semplice di TF Che va ovviamente Maxata W Qui c'è da parlare un pochino Perché è una delle sue spell più importanti Twisted Fate Sceglie una carta magica dal suo mazzo E la usa per il prossimo attacco base Causando effetti bonus A seconda di quale carta ha scelto La carta blu farà più danno delle altre E vi ridarà un po' di mana La carta rossa rallenterà e farà danno ad aria Mentre la carta gialla stunnerà il nemico Per un massimo di due secondi A livello 5 All'uno se non sbaglio è un secondo solo Cosa molto importante La prima carta a comparire Non sarà mai uguale alla precedente Quindi dovete fare molta attenzione A cliccare quella giusta Quando comparirà Allora che vuol dire ragazzi Quando noi Che Clicchiamo per la prima volta l'abilità Sopra la testa di TF Inizierà a girare delle tre carte Prima Cioè Non si sa quali delle prime Però sarà gialla Blu rossa Gialla blu rossa Continuando così Quando voi Vedete sopra la vostra testa La carta che vi interessa Semplicemente Ricliccate l'abilità E quella carta verrà bloccata E potrete usarla per il prossimo attacco Per qualche secondo Non mi ricordo quanti secondi sono E Passivamente Twisted Fate Guadagna velocità di attacco Ed ogni 4 attacchi Il prossimo infliggerà danni magici bonus Molto semplice R Twisted Fate rivela istantaneamente Tutti i nemici I campioni nemici sulla mappa Inoltre può teletrasportarsi Tra un breve periodo di tempo Di canalizzazione Ovunque voglia Finchè rimane l'energia della spell Chi è livello 1 È gigante Allora Ma vi faccio vedere Clicchiamo una volta Visto che iniziano Iniziano a girare le carte Cliccate un'altra volta Sulla carta che vi interessa E Un attimo Cambiamo la musica E poi la tirate Con un attacco base Molto molto semplice Allora All'inizio Quello che vi consiglio io È di utilizzare la carta rossa Per pushare la wave Perché TF è un champion Che la wave La deve pushare E anche in fretta Guardate fate così La tirate sui caster Poi magari approfittate anche Del fatto che Potrebbe esserci Il nemico Un attimo Ok Magari approfittate anche Del fatto che potrebbe Esserci il nemico No Ok Per fargli un po' di danno Non preoccupatevi troppo Del mana Perché Usando la carta blu Come potete vedere Ne recupereremo Abbastanza E io non ho comprato Oggetti Perfetto Io sono un cretino Che non ha comprato oggetti Però Tutta questa è una tattica Ragazzi Questa qua È una tattica inventata Dal sottoscritto Ok Ed è Questa tattica si chiama Io sei un cretino Però Facciamo finta che L'hai fatto apposta In questo modo Ti salvi la faccia E così puoi dire Che non hai comprato oggetti Perché aspetti di Tornare in base E prendere direttamente Quello che ti serve Io direi che è un'ottima Strategia Voi che dite no Alla fine abbiamo il tp Stiamo farmando bene Avevamo 1100 Che ce frega a noi Che ce frega a noi no Ma che ce frega Ma che ce importa Perfetto Stiamo attenti Che cazzo sta facendo Pai Che pazzo Stiamo attenti Al nocturn Ok Ui Attenzione Ecco appunto Sono morto ragazzi Eh Già 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 Sono morto Perché sono un cretino Perché sono un cretino Perché sono un cretino Ok Vabbè C'ho C'ho il coso C'ho il Come si chiama C'ho il tp Ok Va bene Sapevo che mi avrebbe gancato un optum Sono io scemo Allora Prendiamoci il nostro Catalyst Of a Eons In modo tale Un attimo In modo tale Da Guadagnare abbastanza Statistiche difensive Per non morire più Da Questo non lo prenderò mai Per non morire più Da signor pike Che non lascerò andare via Mai nella vita Ok Abbiamo anche abbastanza mana Ora Nel caso Ci servisse Anche se Non ci servirà Quindi Stiamo abbastanza tranquilli Quando vede il quarto colpo Magari tiratelo sul nemico Che fa parecchio danno Ok Perfetto Ok Eh amico Wukong Io sto a posto così Guarda Tu mi lasci farmare E io sto a posto Sì Non è che hai fatto molto bene Mi sa amico Eh va bene Mi sa che dovevo farmi I cazzi miei Molto probabilmente Già 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 Eh niente Non dovevo salvare Signor Wukong Next time I let you die Eh La prossima volta Lo lasciamo morire Perché Direi che non è il caso Ho morto già due volte La prima per colpa mia Ma qua Qua dovevo farmi I cazzi miei Non dovevo assolutamente Aiutarlo Se lui vuole ingancare Cioè invadere un occhio Non ce la fa Non è colpa mia Ho giàato due kill A questo tizio Ed è un problema Ho dovuto perché Non ho farm Non ho farm Non ho livelli Colpa mia L'ho sbagliato Però Potrebbe capitare Anche a voi Di sbagliare così Quindi magari Vedermi Failare Può farvi bene Quello che vi volevo di Del signor TF È che lui deve Pushare la wave E basta Lui deve pushare la wave E andarsene Non altro a fare Soprattutto contro Dei laner molto aggressivi Ovvero assassini Non è una cosa che lui deve fare Eh prendere la sua bella Carta rossa Fare così Fare così Prendere tutti quanti Eh ovviamente il canno No Prendere tutti quanti Minon E poi si leva dal cazzo Questo è tutto quello Che dovete fare con TF Perché tanto Non è difficile trovare Un mid laner Che Abbia il suo wave clear Dopo che ha tipo le carte A livello 3 o 4 Ok Perché semplicemente Noi tiriamo la carta rossa La carta rossa Tiriamo la carta rossa qua Non so perché lo dico Quella doppia Ok facciamo così Ce ne andiamo indietro Ce ne andiamo indietro Tiriamo un'altra carta qua Ok E adesso abbiamo la R E una volta che siamo messi così Ci sta Ci sta da dio Ora se i miei botlane Non Non pushassero Io riuscirei anche a ultare Il problema è che adesso non riesco Ovviamente la botlane È la prima lane Pushing in before Ok Ovviamente la botlane È la prima lane Che si sceglie da È la prima lane Che si sceglie da Da gankare Perché Va da sé Va da sé Che è quella È quella con due persone Ed è quella Che si preferisce Che si preferisce Prefisce gankare Pai che non ha Farmato molto Questa cosa mi consola Ok Qua non utilizziamo Non utilizziamo la Q per ora Voglio recuperare un po' di mana Prima di fare un'altra combo Oh porca troia Ok Perfetto Ci ha partito mica tanto Ho visto che sto failando un sacco di cose Perfetto Se riusciamo a prendere anche lui È tanta roba Ovviamente Mi ammazza? Probabilmente mi ammazza Ok non mi ha ammazzato Uff Va bene Meno male Siamo vivi Potremmo anche killarlo Però probabilmente ci arriva Ci arriva Nocturne ora Quindi Prima che arrivi Il signor Nocturne Prima che arrivi il signor Nocturne Ce ne andiamo Eh Devono smettere di pushare Bottlin Perché sennò io non potrò mai gankare E questo è un grosso problema In teoria Al 6 Dovremmo già gankare Mi mancavano Mi mancava letteralmente Non lo so Un secondo Per ricalrare Mi mancava esattamente Un secondo per ricalrare Eh Sì Però Posso Posso ovviamente anche andare top lane E mi sa che è quello che farò Perché Bottlin Non mi danno modo di gankarli Purtroppo ragazzi lo sapete Quando io gioco un champion Che mi fa schifo Ci rendo male Quando io gioco un champion Che mi fa schifo Ci rendo veramente male Sur Certo Guarda Ti piace questo surrender? Spero che gli piaccia Allora Rifamo da capo Andiamo in mid Pusciamo la wave Speriamo che non ci ingaggi Di nuovo Nocturne E speriamo anche che venga a gankarci Almeno una volta nella vita Il nostro jungler Niente Stiamo solamente perdendo ragazzi Siamo 7 a 1 Però non è che mi prendo Proprio tante responsabilità Di sta cosa Cioè In teoria dovrei gankare Ma Hai rotto il cazzo Hai davvero rotto il cazzo Poi C'è te lo sto a D Eh Hai rotto il cazzo Dopo un po' Dopo un po' Mi dai sui nervi Vieni Ok Lo posso uccidere? Ok Lo potrei anche uccidere volendo Però meglio che ce ne andiamo Perché non so dove sta Non so dove sta Nocturne Il nostro jungler Che si chiama anche Wukong È di nome Ma non di fatto Purtroppo Ma io dovevo Troppo gankare È arrivato il momento Eh lo sapevo Ma Wukong Cosa sta facendo Scusatemi Wukong Ok Perfetto Ok Allora Finalmente sono riuscito a usare la R Ora vi spiego una cosina Perché l'ho dovuto fare veloce Prima di usare la R Ovviamente Dovete tirare fuori la carta che volete Quando di solito si usa la R TF prende sempre la carta gialla Perché deve stunnare Quindi Prima tirate fuori la carta gialla E poi Dopo Un attimo Dopo aver tirato fuori la carta gialla Cliccate la R E andate su E andate dove volete andare È sempre meglio andare Più vicino possibile A chi volete attaccare Ovviamente Infatti lì mi avete visto Sono andato su Nocturne Ho anche aspettato Che utilizzasse il suo spell shield Perché È molto facile prevedere Quando TF tira la carta gialla Perché Vedi l'animazione di quando fa Così Quindi ho dovuto per forza aspettare Non male che Vukum È stato È stato reattivo Quanto mia nonna Però Perlomeno una kill l'abbia fatta Allora Questo qua c'è la mobility Ha rotto il cazzo Andrebbe potermi uccidere stavolta O forse sì Eh vabbè Così sì Oh L'hai missata Ok L'ha missata Eh muore anche quello Nostro jungle L'abbiamo trovato nelle patatine Ragazzi Naturalmente Nostro jungle L'abbiamo trovato nelle patatine Non che Non che io stia giocando meglio Eh però Porca puttana Cioè forse riusciamo ancora a fare qualcosa Vediamo un po' Io purtroppo sto giocando Come non dovrei giocare Ovvero Non gankando come dovrei Dovrei gankare molto di più Ok Adesso che abbiamo la Adesso che abbiamo la Q Maxata bene Possiamo fare questo lavoro E andarcene via Tra 40 secondi Ho bisogno di nuovo della Cioè ho di nuovo la ultimate Però me ne voglio andare Prendo le scarpe di ripetizione magica Così farò più danno E sarò anche un po' più veloce Ok Ci prendiamo anche questo E questo Ora io tra 40 secondi Ho la ultimate Onestamente non mi frega di perdere Basta che vi faccio vedere Solamente come si gioca Che è molto semplice La sua fase di lane Deve solamente stare safe E non come ho fatto io Però Oltre a quello Amico Te ne devi andare Te ne devi andare Non puoi stare lì Te ne devi Eh vabbè Vi war a retard Eh te lo sei meritato Te lo sei decisamente meritato La tua stupilità è stata premiata Stanoc tu lo stava stompando Ma io non posso andare giù Come faccio Cioè non posso andare su Ok Perfetto Wow 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 Qui è Chogat questo Ok se n'è andato Vediamo se ci casca Ok non c'è cascato Vabbè Almeno Ho aiutato Bottren Eh vedete Con la R Potete fare anche Tranquillamente dei counter gank Con la R Potete fare anche Tranquillamente dei counter gank Sei morto Yeee L'ho solo killato Questa cosa Volevo farla anche in lane Solo che io sono scemo E oltre ad essere scemo Non sono un grande Fan di TF Perché i danni ci sono I danni ci sono Cioè i danni TF li ha Ho solamente una roa E 100 di ap Ma i danni li ho E' solo che non sono Stato capace di sfruttarli Molte volte vi capiterà di Eh ho bisogno ancora di Un pochino di Cioè molte volte vi capiterà Di morire Come sto facendo io adesso Ok Mannamia che cattiveria Volevo solamente vendermi i gol per l'ascino Ma mi sa che non ce la faccio Molte volte vi capiterà di Cliccare nervosamente La prima La prima carta che vi esce Se siete fortunati Vi uscirà Eh raga mi tocca No non posso Se siete fortunati Vi potrebbe uscire La carta gialla Per stunnare e scappare Ma lì è solo culo Si chiama Per l'appunto La lucky card E' proprio chiamata così Vedete Se voi cliccate così Ecco vedete Qua mi è uscita la carta blu Ma non si sa Quale sarà la prossima del mazzo La prossima prima Intendo Ora lo faccio vedere di nuovo Intanto che guardiamo Morire Il signor Wukong Visto? Ora è diventata la gialla E' tutto casuale Ho perso il conto Una volta che è morto Jace Più di me Non penso di riuscire A web clear Posso fare solamente così Non metto Il nostro render Questi maialini Non si meritano Di arrendersi Ok Eh sto gran cazzo amico Sto gran gazzus Vedete Questa è la durata Della carta Come mi hai preso? Come? C'è C'erano i minion davanti Vabbè Non lo so Come mi ha preso Davvero Non lo so Come mi ha preso Davvero Non lo so Me lo sto chiedendo Onestamente Come mi abbia preso In mezzo ai minion? Però beh ormai è il male minore Va qua che roba Ah questa qua si chiama Toxic Cell Si chiama Nigga Beh 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 Capisco molte cose Capisco molte cose Dai Google sta prendendo qualche kill Magari ce la possiamo ancora fare Sto fiducioso Sono fiducioso In realtà non lo sono però Ok Guarda Ammazzate questo? No eh Ok Aiuto Gente dappertutto Ok ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Non so come Ma ce l'abbiamo fatta C'era letteralmente gente ovunque E Nocturne è un po' Una rottura di coglioni Perché ogni volta devo aspettare Che utilizza la cazzo di W Altrimenti mi farà la spell E se mi farà la carta gialla Sono cazzi miei Meanwhile la nostra base Sta capitolando Perché quando parla Nessuno vuole andare a difenderla Ce devo andare io Ti difendo io Torre Sei mia amica Bard picchia Picchia di più Stunna stunna Bard bravo Oddio abbiamo difesa Perfetto Allora questo vuol dire Che ricresce Ricresce la cresce Eh si ricresce Ricresce la torre del Nexus Siamo fortunati Ok Faccio anche un po' Faccio anche danno adesso Comunque Dovrebbe ricrescere Vero? Si Pian piano guadagna HP Allora Debo fare solamente sta cosa Niente altro Posso e devo fare solamente questo Oh magari loro trovano Eh chi lo sa Tutto può accadere Nelle normal Perché si Questa è la normal Perché c'era gente davvero Che credesse Che io Facciaste le gol Nelle rank XD Ok che sono Mi ritengo un giocatore Abbastanza Decente con ogni campione Ma non tale da rischiarci Di perdere il rank I miei preziosi LP Fatti col sudore Della mia fronte Intanto qua muoiono tutti Intanto qua muoiono tutti E io clearo tranquillo La top lane Wow Sono tutti morti I miei compagni Tu è prima o l'ultimo Tutti dal primo all'ultimo E no Non ci arrendiamo Non ci arrendiamo Non me ne frega un cazzo Avete fatto i maiali Tu soprattutto E tu pure Eh ok Non ci arrendiamo Però io come faccio qua Non faccio Tiro carte Ecco cosa faccio Tiro carte Tiro carte e basta Io tiro solo carte Non posso fare altro Posso solamente fare così Tirare carte in giro Minions Ok 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 Feeling blue Feeling like Lost this game Ma dai Non ho giocato così male Cioè potevo giocarmela meglio Più che altro La bot lane Mi pushava a oltranza Questa è una cosa brutta Di quando giochi TF Se la bot lane Pusha così tanto Cioè fa poco Cioè non è che puoi Daivare con TF Cioè si può daivare Però dipende Che champion hai Vicino E di certo Con bard Draven Non si dava Una torre Mamma mia Stanoctur È 9-1 Stanoctur Sta 9-1 Immagino che ormai Il game non si vinca più Mi calda perché Non possiamo farti fight Io sto spettando Come se fossi Tryndamere Io sto spettando Come se fossi Tryndamere Così per prendere qualche livello E un po' di Di gold Perché sono a livello 13 Sono a livello più alto di tutti Ah le Le carte funzionano anche sulle torre Le carte funzionano anche sulle torre Quindi Usatele Ok E andiamo back Ragazzi riuscite a far qualcosa Che non sia a morire come dei mongoli? No eh Non ce la fate Mi sa Perfetto Questo c'è morto Perfetto Lui dovrebbe avere solo armor Quindi gli faccio danno Ok Visto? Visto che i danni li faccio comunque C'ho la leechbane E ha una leechbane E ha una leechbane È pur sempre una leechbane Perfetto Queste qua sono il potere di TF Quando ha tanti soldi In tasca Ovviamente Quando ce li ha Riuscite anche a fare questo Ma che waveclear Il waveclear di TF è veramente stupendo Infatti è una delle poche cose Che mi piace di lui Cioè in realtà Mi piace anche il fatto Che può Guncare a spam Però Quando succedono cose del genere Tipo La mia botlane Che continuavo a pushare Io non potevo fare nulla Allora lì diventa antipatico A giocare TF Pallosi che siete Oh Sono arresi Eh vabbè raga Vabbè A parte i miei compagni maialini Io spero comunque Che questo game vi sia piaciuto E niente Ci vediamo al prossimo Ciao